Il sovrano aveva tenuto a che tutto si svolgesse con la maggiore semplicità, ma la popolazione di Bruxelles ha mostrato con lunghi applausi e manifestazioni di ogni genere, del tutto spontaneo, di nutrire per la coppia una simpatia istintiva, veramente insospettabile e sincera. Una moltitudine in festa ha salutato i fidanzati emozionatissimi, che a lungo hanno risposto alle ovazioni.